Sanzionato barista domese per aver violato le disposizioni nazionali e regionali sull'emergenza sanitaria. E' stato pizzicato dalla polizia locale di Domodossola mentre somministrava bevande a un gruppo di avventori che sostavano brindando in assembramento all'ingresso del locale senza indossare mascherine protettive a distanza ravvicinata tra loro. L'addetto alla vendita privo di mascherine e di guanti monouso si è avvicinato ai clienti senza rispettare la distanza interpersonale di due metri per il pagamento. Alla violazione amministrativa da 400 a 3.000 euro consegue la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni che potrà essere irrogata dalla prefettura. Una circostanza che diventa occasione per la polizia locale Domese per rinnovare l'appello al senso di responsabilità di esercenti, professionisti e cittadini in una fase delicata di lento ma progressivo ritorno alla normalità. Su quanto accaduto è intervenuta la capogruppo cittadina di Forza Italia Marina Oliva che commenta la legge è uguale per tutti nessuno escluso, un brutto episodio isolato visto che gli esercenti domesi si sono comportati fino ad ora in modo ineccepibile.